La Toscana hanno sofferto in questi due anni e quindi quando c'è un bando di questa natura che può metterli in condizione di ripartire velocemente, non devo dire niente in questa regione perché è una regione che piange poco e lavora molto in qualsiasi occasione, un esempio, però anche se le persone non ti tirano la giacchetta per avere, tu gli devi dare quello che ti permette di rafforzare l'oro e di rafforzare la tua economia. Allora il 30% di queste risorse, 30 milioni, sono destinate alle imprese colpite dagli eventi alluminati. Ha parlato dell'alluzione di Trump, non temo.